Fratero, Luiz, cioè Luiz, Luiz Castiglioni, come mai lo sbaglierate oggi? Oh come va il negozio? Va bene il negozio? Attenzione, inizio gara ciclistica, con... Eh negozio ormai, vai, ma siamo tutti. Comunque ragazzi, andiamoci per il primo passaggio con il traguardo volante. Attenzione pubblico, state dietro le transette. Non attraversate, gruppo compatto, giro a pochi metri fa. Quanti tentativi di annumo, ma rimangono sempre comunque insieme le allievi in gara. Attenzione, altre macchine dell'organizzazione, le scorte ad anticipare le concorrenti, curva a destra che forna alla crescione dell'arrivo. Eccole, 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 sono una novantina di allieve sul percorso di gara. Donate Cempino, 39esimo, non è un premio in arrivo al primo giro e abbiamo già un traguardo volante. Attenzione, spingono sui pedali per il primo traguardo volante. Ci siamo ragazzi, applausi pubblico! Applausi, applausi! 16 secondi, non ho detto male. Forza ragazzi! Grazie, grazie! E' buona scelta che è felta, che è felta. E' buona scelta, è venuta! E' buona scelta che è bei ragazzi. al primissimo giro attenzione dai forza facciamo un bel applauso dai dai facciamo un bel applauso ragazzi facciamo il tifo alle nostre allieve sul percorso di gara abbiamo visto Rebecca Fiscarelli del ciclo in fiorina dai forza applausi pubblico primo giro sette giri alla conclusione la canovana dovrebbe essere le brugole del 6 che è un bel applauso che è un bel applauso grazie